Ok, eccoci qui, buon pomeriggio 14.04, apriamo la seduta della Commissione Speciale di oggi, proseguo con l'appello per chi dovesse aver bisogno di giustizia, di darmi le comunicazioni che lo sculgono. Angelini? Presente. Alleori? Presente, in presenza dalle 14, con giustizia, grazie. Perfetto. Borrelli? A pomeriggio, presente. Ceresola? Presente, con attestazione, grazie. Ok, Cucunato? Ecca? Buongiorno, presente, in presenza in sala Fabio Grossi, dalla 14, con giustifica. Ok, Sotillo? Presente. Benissimo, procedo ad una seconda chiamata per consigliare Cucunato, che non vedo al momento in seduta, sicuramente avrà cura di avvisarci quando farà ingresso. Prego, Presidente. Grazie. Allora, iniziamo col primo punto all'ordine del giorno e diamo lettura dei verbali. Come ci stavamo dicendo anche fuori registrazione, uno dei due verbali lo abbiamo già affrontato l'altra volta, aspettavamo delle modifiche che comunque non sono arrivate, quindi direi di considerarlo come approvato, e di passare quindi al verbale numero 824. Allora, ne do lettura, vi metto anche la condivisione dello schermo, così potete seguirmi se volete. Allora, Commissione Speciale Progetti Speciali. L'anno 2024, il giorno 19 del mese settembre alle ore 15, è stata convocata la Commissione Progetti Speciali, con i seguenti ordini del giorno. Approvazione verbale, programmazione dei lavori per la prossima convocazione, esame posta, avanti eventuali. La seduta apre alle 15.16. Sono presenti Lorenzo Angelini, consiglieri alle ori, in presenza Borrelli, Cerisola e Ecca, in presenza fino alle 16.05 e poi online su Teams e Sodillo. La segretaria verbalizzante, Emanuele Lamondo. Adempimenti, il presidente Angelini, dopo aver constatato il numero legale alle ore 15.16, dichiara ufficialmente aperta la seduta odierna, regolarmente convocata alle ore 15, con il primo punto all'ordine del giorno. Approvazione verbale. Segue letture, approvazione verbale numero 2624 del 18724, congiunta sesta e speciale. che è quella che stavamo dicendo, appunto scuola e speciale. Il presidente Angelini prosegue con il secondo punto all'ordine del giorno, programmazione dei lavori per le prossime convocazioni. Introduce l'argomento e rispone alcuni obiettivi e attività per i prossimi mesi. Il festival dei beni comuni da affrontare su più commissioni, ciascuna su un tema fino all'organizzazione completa del festival, e infine una seduta per invitare le consulte. L'intenzione è far sì che queste ultime canalizze di energia e risorse di concetto e associative dentro ai progetti. Rispetto all'iniziativa Bookstart, è in interlocuzione con la Presidente Vecchio per l'impostazione del protocollo d'intesa. Poi le comunità energetiche verifiche con l'assessorato alle tempistiche su Paola Sarro. In seguito all'incontro della scuola, procedere alla lista dei contatti con l'associazione delle comunità energetiche. Questo me lo segno un attimo che Paola Sarro, che con questa storia del festival sia stato proprio citato. Allora, su tutela e benessere degli animali, propone il tema delle colonie feline, da declinare la lotta all'abbandono in sinergia con l'assessore Gregori. Novità, la proposta della Presidente De Vivo per una seduta del congiunto alla Commissione Prima sul tema Innovazione e disabilità, funzionare lo studio delle vocalità per la prevenzione dei malattie che possano causare disabilità per metà ottobre. Qui ho delle novità che magari ne parliamo nelle varie eventuali. Innovazione e disabilità. Scusate, se non me le segno, me le dimentico queste cose. Sul largo Iacovetti, attende lo sviluppo delle attività. Consigliere ECA aggiunge nella pianificazione dei lavori un'audizione nella presenza anche del Presidente Di Salvo, del Commissario per Malagrotta, affinché si possa avere rispetto a largo Iacovetti i scontri sullo stanzionamento dei fondi, entità, tempi e modalità, e su eventuali forme di supporto municipale. Propone per la delega relativa all'intercoltura un avvio di sedute sul tema dell'incontro tra le civiltà europee con le culture delle colonie, insomma, di riope libiche tunisine, e non solo per un processo di coinvolgimento dei rappresentanti di questa comunità di 1909 nell'ottica di una maggiore scambio culturale. Come terzo macro tema, per una pianificazione avanzata, pone la transizione energetica, un punto sulla geometria come strumento, geotermia, scusate, infatti non capivo, come strumento di potenziamento di energia solare. Era stata chiesta la mappa della geotermia del Municipio di Nove per trovare giacimenti geotermici e su questo capire come poter affrontare le campagne di sensibilizzazione per ridurre, per la riduzione dello spreco d'energia sia in contesti privati sia nel commercio e nella pubblica amministrazione. Consigli Agelini raccoglie gli spunti forniti, in merito all'intercultura occorre capirne la declinazione in base alle condizioni sociali dei quartieri. Il consigliere Cerisola ringrazia per lo spazio di condivisione che consente una programmazione efficace per la commissione incaricata di temi specifici, non ricompresi, nella commissione ordinaria e permanenti. Sul piano istituzionale come membro dell'ufficio di presidenza si mette a disposizione a collaborare ai fini del lavoro della commissione, sottolinea le proprie forti perplessità già evidenziate in altre commissioni in conferenza dei gruppo, nella capigruppo? Si intende questo? Sì esatto, della capigruppo, grazie. Si chiama conferenza dei capigruppo. Ah, capigruppo, scusate. Oggi è giornale proprio. Sull'inserimento della programmazione dei lavori, quale unico punto di una seduta, ritenendo che le sedute debbano focalizzarsi su temi specifici, diverse le pronunce in merito, tra cui cita una presa di posizione molto forte da parte del segretario generale di Chioggia, in questo senso. È dell'avviso che occorra aggiungere un altro argomento specifico, seguito da programmazione dei lavori, dandosi tempo per affrontare anche quest'ultimo con adeguato contingentamento dei tempi. Più nel merito, periodicità di istruttorie sui temi prioritari, come Largo Iacovetti, accoglie l'idea del consigliere Eccas su invito del commissario ad hoc, aggiunge un focus sul tema animale e progetti di sensibilizzazione civica. Il consigliere Borrelli, sul Festival dei Benicuni, oggetto di diverse sedute, ritiene utile un approfondimento sui singoli temi, in modo da immaginare una sorta di panel, di discussione con gli attori nei luoghi che vengono definiti. Invita alla predisposizione di un'ossatura per meglio delineare cosa si intenda proporre per proseguire poi con affinamenti delle proposte tematiche avanzate. Il presidente Angelini accoglie il punto ritenendo le prossime sedute da dedicare al Festival dei Beni Comuni. Al consigliere Cerisola chiarisce le ragioni che lo hanno indotto alla predisposizione dell'ordine del giorno inserendo al punto 2 la programmazione in quanto tema suggerito da tutti i commissari, inclusi i consiglieri di minoranza. Ed è l'idea di utilizzare lo spazio delle varie eventuali per aggiornarsi su cosa si sta facendo e sui temi da suggerire. Propone sull'orario una convocazione stabilita dalla Capigruppo alle ore 14, decide avanzare la proposta di un cambio di orario alle ore 15 e in caso di commissioni più dense richiedere di farla alle 14.30. Il consigliere Cerisola esprime la propria posizione a che per motivi lavorativi si mantenga l'orario concordato. Il consigliere Alleori si impegna ad interlocuire con il capogruppo in merito, ritiene che essendo membro anche della commissione prima, giovedì mattina, all'apertura alle 14.30 e 15 sposti poco, preferirebbe comunque che l'orario di commissione possa essere slittato alle 14.30.15. Il consigliere Borrelli si associa alle riflessioni precedute, preferirebbe seduta alle ore 15 favorevole a ragionamento e ad incastro. Il presidente Angelini dichiara che non sono presenti nuove note nella posta ad esaminare. Conclusi gli ordini del giorno, immagino, qui manca una ribattitura. Alle ore 16 dichiara chiusa la seduta. Sì, sì, scusi, presidente ha ragione. Sì. Qualche virgola è questo intervento, conclusi gli argomenti. Assolutamente, nessun problema. Va bene, allora per me, perdonate la lettura un po', ma sono giornate così, quindi per me va bene, non ho altre modifiche e gli aggiornamenti che ho su alcune cose che ci siamo detti, direi a questo punto di essere coerenti con quello che ci siamo detti e aspettare il momento delle varie eventuali. Ci sono altri pensieri, sogni e desideri che vogliono essere espressi. Perfetto, quindi io dichiarerei che a questo punto ho approvato. Sono le 14.15, intanto saluto il consigliere Coconato che è riuscito ad arrivare e mi rendo conto per la convocazione stretto giro delle 14, la prossima volta ci aggiorniamo con più facilità sull'orario, anche come ne abbiamo detto adesso nel verbale. Tutti gli invitati, se verranno, perché sono gli stessi invitati dell'altra volta, nel senso dovrebbero venire, però siccome stiamo facendo dei ragionamenti molto tecnici e pratici, magari c'è anche poca discussione, magari verranno o non verranno, non lo so, però comunque alle 14.30 prendiamo il punto secondo all'ordine del giorno e vediamo chi arriva e chi non arriva e poi iniziamo a lavorare. Quindi io chiederei una breve pausa di un quarto d'ora, tempo di un caffè e dell'attesa di tutti quanti. Bene, interrompo la registrazione. Ecco. Le comunicazioni di Giusefina, eccoci di nuovo, 14.37, la seduta ritrende, procedo con un velocissimo appello. Angelini? Presente. Alleori? Presente. Borrelli? Presente. Cerisola? Presente. Cucunato? Consigliere Cucunato ci sente? Io lo vedo presente, ma non attiva il microfono. Sì. Ecca, ok. Sotillo? Sotillo? Consigliere Cucunato e Sotillo, al momento non connessi alla seduta, li vedo muti, per cui magari ci danno un cenno, appena presenti, anche via chat. Prego, Presidente. Grazie. Li sto sollecitando così. E no. Perdo no. Allora, cari consiglieri, buon pomeriggio, riprendiamoci. Oggi affrontiamo, col secondo punto all'ordine del giorno, il Festival dei Beni Comuni. Allora, abbiamo, l'altro giorno abbiamo già terminato, a livello di ragionamento, di distribuire i tre incontri, tra i cinque incontri, nei tre mesi di febbraio, marzo, gennaio, febbraio e marzo. E in particolar modo, faccio un riassunto, così ci riprendiamo un attimo le fila, di distribuire, immaginare distribuire l'ultima, il primo incontro, l'ultima settimana di gennaio, poi il secondo incontro, nella settimana di febbraio, il 10-16, in quel range di settimana lì, ovviamente le date distribuiamoci in base, ci distribuiremo in base a tutto quello che riguarda, però insomma, più o meno, la seconda, poi dopo l'ultima settimana di febbraio, va dal 24 a, idealmente al 2 marzo, e poi a marzo, di nuovo 10-16, 24-30. Queste erano le settimane che avevamo immaginato per distribuire i cinque incontri, e eravamo rimasti che l'incontro, l'incontro, allora, scusate, vedo una persona in ansia d'attesa, non so se Manuela hai avuto risposte con, pre-rivasi europee varie. Scusate se fermo tutto un attimo. Eccola, la mettiamo, non vedo l'identità, sì, sì, buon pomeriggio, dottoressa, la signora Antolini, della consulta, vicepresidente della consulta della dottura. Salve, buonasera. Salve, buon pomeriggio. Allora, abbiamo ripreso veramente da pochissimi minuti, e allora rifaccio un attimo un riassunto, cioè completo il riassunto che stavamo dicendo, su il lavoro fatto fino adesso. e allora il lavoro si svolge con l'intenzione di costruire quello che avevamo poi parlato, anche già c'era presente la consulta della cultura al primo incontro, quello di costruire degli incontri, dei primi incontri, poi il festival, soprattutto sul tema dei beni comuni e sul valore dei beni comuni. Avevamo ragionato quindi di 5 incontri prima del festival, che andavano ad anticipare le varie attività poi del festival complete, distribuendoli nei tre mesi di gennaio, febbraio, marzo. Diciamo, l'idea sarebbe, senza ridico le date, fa settimana sì, settimana no, in modo tale da chiudere poi a fine marzo. Eramo rimasti nella scorsa seduta, abbiamo parlato del primo incontro, nello specifico, e di come appunto uno distribuire i periodi, come abbiamo appena detto, i luoghi in cui svolgere questo tipo di attività e come costruire gli eventi. Il primo incontro che era sul regolamento dei beni comuni, in particolare, che era proprio l'incontro di apertura, e lo riprendo perché sennò rischio di perdermi dei pezzi. Scusatemi. Ecco qua. Non lo posso mettere a schermo adesso perché lo dovrei ritrovare, però se serve lo possiamo, mi adopero. Comunque, il primo incontro è il nuovo regolamento dei beni comuni, i patti di collaborazione, e si era deciso di fare il primo incontro in maniera istituzionale all'interno della sala del consiglio. ci eravamo lasciati con l'idea di avere all'interno dell'incontro il coinvolgimento delle consulte, sia in atto pratico, cioè di trovare figure e realtà associative che portino lodevoli, che raccontino anche le esperienze dei patti di collaborazione e l'applicazione dei nuovi regolamenti dei beni comuni, il nuovo regolamento dei beni comuni, le istituzioni che ovviamente hanno costituito questo regolamento e tutto il percorso che c'è stato, e poi trovare appunto delle realtà. Ed eravamo lasciati che nel caso di trovare intanto, se c'erano delle possibilità, delle idee all'interno della nostra commissione, dei consiglieri che magari volano apportare dei possibili nomi, realtà, associazioni, e cose che potevano essere un buon esempio di dialogo all'interno della discussione. Prima di lasciare la parola al consigliere Ecca, che ha calzato la mano sul tema, anticipo, visto che ha calzato la mano il consigliere Ecca anche, che per gli altri incontri dobbiamo trovare gli altri posti e nella commissione precedente si era pensato di iniziare ad andare anche fuori l'accordo, cioè iniziare, ad andare anche fuori l'accordo, giustamente, non ci sarebbe manco di discutere, però giusto proprio per un tema di coinvolgimento, piuttosto che rinchiuderci in determinati punti cittadini, e questo, visto che era stata una proposta anche del consigliere Ecca, se ci sono delle idee che magari ho sviluppato, pensato di luoghi che possono essere funzionali a questo discorso, se no comunque in ogni caso mettiamo in cantiere l'idea e la applichiamo lì. Intanto lascio la parola al consigliere Ecca e andiamo avanti. Sì, grazie Presidente. Io, appunto, in merito alle associazioni da invitare, direi che un invito all'ABSUS sia fondamentale, che sono sostenibili, e poi anche materialmente hanno contribuito a supportare la scrittura della proposta e poi dell'attuazione, diciamo, finale del regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, quindi direi che la loro presenza sia fondamentale e approfitterei anche per provare a invitare anche Simone Bonelli, che è il funzionario che in questo momento mi sembra di aver capito, che gestisce un pochino anche la parte dei beni comuni, funzionario del municipio naturalmente. Almeno queste due figure, diciamo, quindi l'ABSUS, che in realtà sono almeno due persone, ecco, poi fa capire loro come si organizzano, se vengono entrambi o uno dei due, e poi Simone Bonelli. Io direi, fatto questo, diciamo, potremmo provare il terzo invitato, a trovarlo in una delle città in cui i beni comuni, diciamo, come regolamento ci sono già da tempo, quindi da Bologna piuttosto che da Torino, insomma. A me è capitato, ad esempio, per l'ultimo 8 marzo, che un'iniziativa ampi e associazioni del territorio venissero gratuitamente, perché poi il tema è anche economico, da un paesino del Riminese, un gruppo, diciamo, che curava la memoria di Risversari, che, vabbè, partigiana, diciamo, caduta in battaglia nel 1944, e quindi, insomma, hanno contribuito alla commemorazione e al ricordo, al suo ricordo. Ecco, quindi provare con queste tre, diciamo, possibilità. Dico Bologna perché è il più vicino e più collegato, ma, insomma, anche, normalmente, a Milano, a Torino, a Genova, insomma, ci sono tante città in cui ci sono già esperienze oramai pluriennali di amministrazione condivisa dei beni comuni. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Allora, io adesso do la mano all'assessora e anticipo, come ho detto l'altro giorno, non ho fatto introduzioni né per la consulta né per l'assessora, perché oggi, come l'altra volta, facciamo questioni tecniche, pratiche, quindi se si vuole intervenire, se si ha degli AI, si applicano, se no, se bene o male, si prendono appunti. Insomma, ragioniamo in ordine di alzata di mano, così è anche più semplice. Assessora? Sì, tanto buon giorno. Dunque, io gli ho scusa perché l'ultima volta, all'ultima riunione, ero, diciamo, in tenta anche in altre riunioni, quindi forse ho perso un passaggio che potrei aver perso anche oggi, quindi magari se mi volete rispondere su questo. Nella parte istituzionale il campi toglie è fondamentale, perché, come dicevamo inizialmente, c'è un piccolissimo budget a disposizione dell'assessorato di Andrea Catarci, che riguarda proprio i beni comuni. Loro hanno, alcuni municipi già hanno avviato dei progetti, mi pare il decimo, forse il quinto, se non ricordo male, però insomma possiamo capirla. Quindi, se magari, chiaramente, da oggi in poi riesciamo a coinvolgere anche loro in modo tale che si riesca, diciamo, anche a capire come attivare questo piccolo fondo che ci può essere utile appunto per organizzare anche alcune presenze esterne, penso anche allo stesso Rapsus, insomma, è giusto anche delle volte retribuire il lavoro che, delle volte sempre, il lavoro che viene svolto, quindi bisognerebbe capire anche con loro se questi incontri loro partecipano in maniera gratuita o meno, perché so che da altre parti, per esempio, hanno patuito giustamente un pagamento, perché non è solo un intervento, in alcuni casi sono proprio organizzatori anche della giornata e dopodiché io sono d'accordissimo sull'invito all'Azuzer, perché è una realtà fondamentale e sono la realtà maggiore che soprattutto su Roma si è occupata e continua ad occuparsi di beni comuni anche a livello teorico e che è in continua evoluzione, quindi assolutamente sì, però magari se riusciamo a coinvolgere fin da subito l'assessorato, l'assessore Catarci e la sua segreteria che sono sempre molto disponibili con il nostro municipio e in particolar modo su questo tema penso possa essere utile anche per poi concretamente capire anche come realizzarlo, perché sentivo che la scorsa volta per consigliare il cano se ho capito bene ha proposto giustamente di andare fuori diciamo anche dai luoghi canonici del municipio quindi nelle aree diciamo più periferiche quindi assolutamente se ho capito bene non so Presidente quindi assolutamente però come sapete noi sulle aree più periferiche a parte a Ponte Laurentina che abbiamo il catare di Odoglio Viola abbiamo i centri anziani Falcognana e poche altre cose ci sono i centri polivalenti ma che hanno delle difficoltà di altro tipo con il Dipartimento Madri e Un Patrimonio su cui stiamo lavorando ormai da due anni ancora non si è sbloccata questa situazione quindi farlo lì magari potrebbe essere problematico e poi però ci stanno delle cose private anche del privato sociale penso per esempio a Palazzo Mordana dove il consorzio ha un piccolo spazio a disposizione dei cittadini però è un posto privato quindi insomma va valutata questa cosa ora io ve le sto buttando là queste questioni però poi appunto organizzarlo extra gra è assolutamente giusto è condivisibile però poi c'è un tema di concretezza e quindi secondo me sul tema di concretezza non avendo il municipio di disposizione somme per organizzare tutto questo è giusto coinvolgere chi invece ha un piccolo una quota di fondo per organizzare questi insomma incontri eventi legati ai beni comuni c'era un'altra cosa che vi volevo dire scusatemi adesso nel parlare mi è venuta in mente me la sono dimenticata subito e no penso che vabbè forse era solo questo se poi era un'altra cosa rispetto a quello che stavate dicendo ah no Simone Bonelli allora se Simone Bonelli io avevo e poi adesso tra l'altro non credo che ci sia che gli altri sono andato a bussarli però non c'era neanche accanto Simone Bonelli è il funzionario che appunto adesso da diversi mesi ormai si occupa è l'EQ del verde e quindi si occupa anche dei fatti di collaborazione si è occupato dei fatti di collaborazione del verde che per esempio appunto sono già attivi avevamo chiesto lui diciamo di fare un piccolo sforzo per per poter diciamo fare anche altri tipi di fatti di collaborazione che non fossero del verde un po' più complicato quel punto lì però c'è un po' più a rilento però con appunto la sezione regaliardica adesso ha preso la delega ci stiamo lavorando però Simone assolutamente è una persona molto più che disponibile quindi anche invitarlo in commissione o fare una riunione in presenza con lui magari della commissione può essere utile anche per capire come con la parte amministrativa seguire questa questa tematica grazie a lei ok qualcun altro vuole vuole intervenire confermare affermare sostenere e pensare allora io sono per me va benissimo sono d'accordo anche su su l'inserimento all'interno di anche di realtà non propriamente locali che raccontino anche esperienze esterne e allora sì sul discorso dei fondi sì dobbiamo iniziare una interlocuzione per vedere un attimo questa cosa sono stato d'accordo cercherei di canalizzarli più sulla parte finale quindi sul festival che nella ricerca di magari luoghi o di luoghi per gli incontri e cercherei di trovare magari dei compromessi utili per fare in modo tale che si possano trovare degli spazi o situazioni che non richiedano ulteriori spese visto che poi comunque già il festival in sé richiederà una spesa nella sua costruzione via Tullio Veola era una delle realtà di Casale via Tullio Veola era una delle realtà che mi ero anche segnato e che sicuramente in uno dei quattro incontri sarebbe interessante inserire ma anche il discorso dei centri anziani penso che se ci si possa creare un'interlocuzione con anche una delle realtà dei centri anziani che sono presenti penso penso al centro anziani di Tricoria ma perché penso penso prima a quello perché ho avuto esperienze dirette con quello ma vale il ragionamento per il nostro tutto il nostro municipio e tutti i nostri centri anziani che sono nelle zone che appunto vogliamo andare a centrare all'interno del discorso del dibattito e quindi io mi fermerò ovviamente ragioniamo nel senso niente scolpito nella pietra quindi adesso abbiamo aggiunto altri tasselli come queste realtà che possono venire a questo incontro costituendo anche il discorso istituzionale sono d'accordissimo al Campidoglio anche perché per forza di cose oltre che per l'interlocuzione c'è anche proprio un ruolo istituzionale fondamentale che ci deve stare e rimarrei sulla sala del consiglio alla fine gennaio in modo tale che il nostro primo incontro adesso è un pacchetto va insomma sistemato completato si succedono poi gli altri incontri allora l'altro incontro che bisognerà andare a organizzare sarebbe il secondo incontro nell'immaginario mio o mio insomma nostro quello che abbiamo detto poi alla precedente commissione ma comunque immaginario generale è quello di posizionarlo verso la seconda settimana di febbraio quindi siamo già siamo entrati nell'altro mese e tratta di il titolo è rigenerazione urbana e spazi comuni come eravamo rimasti e anche qui dobbiamo ragionare anche lì se abbiamo pensieri su chi possa intervenire all'interno di questi incontri se abbiamo delle realtà che vogliamo coinvolgere direttamente e anche per l'iniziativa per raggiungere un tassello al nostro dibattito perché immagino comunque che adesso non usciranno tantissimi nomi in realtà da poter applicare al nostro tavolo se escono ovviamente ci risegniamo tutti e ci ragioniamo poi strada facendo intanto ragionerei anche qui sulla possibilità mi rendo conto che sembra che io stia correndo però preso tutto questo io poi noi tutti poi all'esterno lavoriamo a livello pratico quindi chiediamo le disponibilità vediamo però prima è essenziale perché se no sembra che sono sono impazzito che un po' è vero ma in altri contesti quindi no è più un discorso pratico per cercare di andare a racchiudere la tematica quindi l'incontro 2 rigenerazione urbana e spazi comuni intanto potremmo mettere il tassello per capire dove potrebbe essere interessante farlo anche perché è simbolico anche il luogo come sarà per l'incontro 5 l'incontro 2 rigenerazione urbana e spazi comuni ci obbliga a cercare un posto sempre ragionando in luoghi che sono contestuali a quello che riguarda le nostre attività cioè le nostre realtà municipali intanto ci sono pensieri a riguardo io avevo pensato ma mi rendo conto che una abbiamo pensato ci sono delle possibilità una di queste possibilità potrebbe essere la vaccheria parlando di rigenerazione urbana spazi comuni come però anche l'Elsa Morante presupponendo se l'intenzione poi è di farlo o no lì il festival che sarà poi il tema successivo l'assessore Cagliardi parlava anche di Largo Cannella a suo tempo non so in che condizioni e situazioni adesso andremo incontro a questo tema però era un altro luogo possibile ditemi cosa ne pensate se avete pensieri a riguardo anche a livello di luogo se può essere una buona idea e soprattutto se avete idee di persone o realtà o associazioni che secondo voi potrebbe essere utile chiamare per questo secondo incontro di dibattito di ragionamento anche magari costruirlo in maniera diversa se c'è l'intenzione perché per esempio scusate generazione urbana e spazi comuni uno potrebbe fare anche un incontro che si è frontale ma fa anche da canale per canalizzare magari o proposte come dire magari c'è la costruzione di un documento insieme alle associazioni le persone che vengono quindi una cosa partecipata in qualche modo ditemi ditemi cosa ne pensate se no vi dico come lo farei io e basta in maniera molto bene allora io lo farei prego eccomi sono un po' impreparata purtroppo e non so di preciso quello che è stato fatto l'ultima volta lo siamo lo siamo tutti l'unica ecco il festival sarebbe una cosa con degli eventi spettacolo dal vivo sì l'idea sarebbe quella di di costruire una fare questi incontri che poi portino a questo evento finale di festival che quindi vuole trasmettere le informazioni e le bellezze che riguardano quello che sono i beni comuni lo sfruttamento dei beni comuni per la comunità attraverso però un mezzo che è quello del festival quindi appunto serate che possono riguardare appunto serate di artisti o comunque anche ambienti che sono più informali no parliamo di anche luoghi dove mangiare insomma trovare un ambiente che è quello di un festival quindi una realtà che nella quale viene veicolato il messaggio in un contesto non formale diciamo così poi dopo come applicarlo certo no vabbè nel senso che io organizzo un festival all'Elsa Morante e chiaramente lì ci sono tutta una serie di problematiche rispetto a quello che è il pubblico spettacolo eccetera e in questo momento insomma il teatro chiaramente se parlando di la fine a marzo sarebbe l'evento finale diciamo marzo-aprile l'idea sarebbe di inserirlo in quel periodo lì però vediamo anche in base al fatto se lo Springfest per esempio che si organizza all'Elsa Morante verrà fatto o no in che tempistiche comunque in ogni caso sono assolutamente d'accordo sulle difficoltà infatti sarà poi un tema da dover sviscerare proprio a livello pratico ok e invece vabbè volevo portare la cosa di largo cannella che chiaramente potrebbe essere un'idea bella perché in questo momento è assolutamente uno spazio rivalutato io ho fatto anche lì tre anni di festival ed era assolutamente molto molto degradato invece adesso è un piacere tanto che pomeriggio spesso ci trovi delle persone sedute a chiacchierare eccetera ed è per me personalmente che mi occupo di organizzare eventi è sempre un dispiacere non riuscire a fare le cose là perché purtroppo è un po' il problema della burocrazia che è costosissima e poi del deserto intorno perché tu fai un concerto la sera e non c'è aperto assolutamente nulla insomma quindi potrebbe essere un segnale importante per Spinaceto fare un evento lì sono molto d'accordo infatti quando l'assessore ne aveva parlato poi mi si sono illuminati gli occhi anche perché largo cannella per quanto io non sei Spinaceto è un luogo che ho sempre frequentato tra contatti viste cose insomma ambiente che conosco quindi sì a questo punto visto che sono d'accordo che il tema di regenerazione riguarda anche e soprattutto ambienti come largo cannella potremmo spostare il ragionamento dell'incontro lì in quell'ambiente lì e quindi applicarci lì anzi se quindi hai esperienza di costruzione di eventi e attività avrà anche magari penso che la rete poi della consulta lo permette ulteriormente realtà associative magari che si possono coniugare all'evento inserire rispetto a Spinaceto comunque c'è una scuola di musica popolare cioè ci sta chiaramente la biblioteca con riferimento importante per tutti quanti quindi una rete si costruirebbe abbastanza facilmente quindi insomma sicuramente le associazioni da coinvolgere ci starebbero con facilità rispetto appunto alle altre cose non alzo le mani nel senso che devo capire un pochino di più le cose per l'altra cosa che mi viene in mente chiaramente in questo momento che però magari a gennaio febbraio è anacronistico è anche il discorso dello Stardust che chiaramente è un bene comune in qualche modo che in questo momento sta affaticato insomma a che io sappia il municipio ha preso in gestione solo gli spazi esterni insomma in questo momento quindi non so se anche quello può essere una cosa insomma da indagare ecco sì no su quello magari potrebbe essere interessante vedere come procede esatto come procede perché se ovviamente c'è una procede in modo lineare per cui si risolvono anche i nodi che adesso non garbugliano ok se vediamo ci sono delle difficoltà magari noi come commissione possiamo parte trattarlo perché sono d'accordo che è un tema bene comune quindi quello sì ma anche comunque inserirlo all'interno delle nostre possibili attività allora sì io a questo punto ragionerei sulla possibilità di trovare degli spazi a largo cannella dico trovare per vedere un attimo come costituire l'incontro che siamo comunque in periodo invernale quindi non immagino la parte esterna immagino anche degli uffici del comune dentro della nagra non lo so adesso sto dicendo cose non lo so però magari quello potrebbe essere un ottimo spazio e prendo riferimento la consulta della cultura e lei quindi quando vedremo un attimo anche gli invitati di ragionamento un po' più tecnico e pratico magari o nelle prossime commissioni oppure già arriviamo nelle prossime commissioni con qualcosa di un po' più strutturato e anche per ragionare sul sul secondo incontro e io comunque ragionerei anche sulla andrei avanti anche sui ragionamenti e cercare di opzionare la possibilità di 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 sfruttare via Dullio Viola e la vaccheria come due come due luoghi dove poter svolgere gli altri incontri diciamo quando si sta vedendo beni comuni monumento come monumenti come beni comuni e euro potrebbe essere anche un modo per canalizzare lì il ruolo della vaccheria non che la vaccheria sia all'euro un ragionamento un po' più però nel senso nello specifico del discorso potrebbe essere interessante anche per il tema di come vengono rivalutati questi ambienti ci sono sogni pensieri e desideri continuiamo a parlarne qualcuno ha qualche idea opzione o pensiero d'accordo allora facciamo così a rischio di 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 fermare prego consigliere Borrelli prego grazie presidente ma solo perché sollecitato dagli ultimi interventi perché la suggestione dello Stardust o se vogliamo un focus a partire da quella realtà che si inserisce diciamo sul tema dell'area di appropriazione culturale sull'uso pubblico degli spazi e quindi sul filone conduttore dentro cui viene concepita anche l'ipotesi di festival dei beni comuni secondo me è una cosa molto interessante direi anche tra virgolette passatevi il termine indipendentemente dalla dalla sola location cioè che dal solo luogo che chiaramente essendo oggetto di contenzioso giuridico nello specifico oltre a non essere in capo al municipio adesso la proprietà dei manufatti quindi ancora a chi aveva la concessione se fu scaduta però renderebbe difficile oggi prevedere un'ipotesi di svolgere in quella sede un ragionamento di questo tipo ma attorno alla vicenda start e quindi a come si ripensa il territorio alle produzioni culturali all'interazione tra le realtà associative fino anche un ragionamento sulle produzioni di cibo il mercato agricolo e l'ipotesi ne parlavamo ieri in commissione urbanistica la commissione che presiedo commissione urbanistica ambiente proprio perché discutendo sulle progettualità future sullo stardust una delle ipotesi ventilate all'interno della commissione era proprio di avviare un iter per la formalizzazione di un farmer market cioè quindi un luogo anche delle produzioni territoriali in cui gli stessi produttori agricoli possano trovare un ragionamento più organico e non relegato alla sola buona volontà o capacità dei singoli di fare rete quindi intorno a questi ragionamenti io non so come dire una suggestione o un surplus di riflessione attorno a quella vicenda o anche su quella vicenda in senso specifico e se fosse possibile ovviamente anche in quel luogo lo manterrei per cui mi sembrava utile dare questa informazione aggiuntiva visto che ieri mattina abbiamo fatto proprio commissione municipale specifica sullo stardust e la situazione è determinata dalla chiusura del punto verde qualità stesso ma mi sembra parte integrante di un ragionamento immediato e di prospettiva che possa essere utile anche alla discussione di questa commissione perché ci tenevo a fare queste due considerazioni mentre per il resto rimango a sentire perché appunto dal dibattito come spesso si dice poi effettivamente nascono spunti di riflessione utili a un ragionamento più organico grazie presidente consigliere prego consigliere Alleori sì grazie presidente solamente per capire se nell'intervento precedente ho compreso bene quanto ho detto ma ad oggi il municipio ha preso in carico solamente la parte esterna dello stardust ho capito bene grazie esattamente esattamente se posso chi risponde cioè non lo so prego no consigliere Borrelli sono sicuro che avrà più informazioni di quante ne ho io in questo istante da rispondere prego no non lo so no visto la commissione di ieri sì certo certo sì è l'area esterna anche perché l'area interna è ancora non solo affidata al concessione cioè a chi aveva la concessione ma è oggetto di un ricorso pendente al tar quindi il tar ha 60 giorni di tempo per esprimersi e ovviamente il tar potrebbe annullare ipoteticamente anche qualora riconoscesse le ragioni di chi aveva la concessionaria e gli atti amministrativi fatti per questo motivo al di là del fatto che non è oggi in carico al municipio è impensabile in questo lasso di tempo previsto dalla giustizia amministrativa un'ipotesi progettuale dentro i manufatti all'interno dello Stardust questo ce l'ha anche ribadito il direttore Siga ieri in audizione in commissione oltre alla parte politica ovviamente la Presidente di Salvo il Vice Presidente Gregori e l'assessore Cagliardi che erano presenti quindi per il momento noi ragioniamo e c'è la presa in carico solo dell'area esterna e nello specifico degli interventi di salvaguardia del mercato agricolo degli interventi di manutenzione e custodia dell'area e del verde di apertura e chiusura del parco diciamo e quindi di accesso ai cittadini e di inserimento di acqua almeno in un ordine di 4, 5, 7 giorni da parte del Dipartimento Tutorial Ambientale perché il distacco della corrente ha fatto sì che la pompa che immetteva acqua e ossigeno dentro il laghetto come dire poteva porre a rischio di vita gli animali presenti nel laghetto stesso dicevo giorni differenti perché in base alla presenza o meno di precipitazione atmosferiche il Dipartimento Tutorial Ambientale andrà con le autobotti a immettere acqua all'interno del laghetto stesso quindi le progettualità oggi sono solo per l'area esterna che è quella realmente in capo al municipio ma in quanto custode cioè non è che è passato il bene al patrimonio municipale cioè il municipio è il custode dell'area proprio in attesa di tutti gli iter specifici compreso quello giuridico e proprio per evitare che qui e ora come si suol dire le attività in essere la fruizione dello spazio per quanto possibile venissero meno per i cittadini quindi questi sono gli aggiornamenti che so io non so se cioè se è capito no? Sì secondo me sì e comunque poi come ho risposto anche prima sul tema vediamo come come prosegue la situazione e decidiamo se quando è il momento nel caso di inserirci nel dialogo adesso io riporterei un attimo la concentrazione qua sul nostro punto all'ordine del giorno così almeno ne portiamo alcuni frutti a casa e andiamo in conclusione poi avremo modo anche magari se spazio dei vari eventuali per poterci aggiungere altre informazioni se ce ne saranno o se ne vogliono sapere e allora per quanto riguarda il l'incontro il secondo incontro possibile da fare all'interno dell'Elsa Morante mentre stavate parlando e stavamo ragionando mi veniva in mente anche la possibilità di modificare il tipo di incontro anziché porlo come una situazione frontale ma porlo come una situazione diciamo un po' più inclusiva soprattutto in un contesto come Largo Cannella se riusciamo idealmente di inserirlo all'interno di questo ambiente che è un bene comune che diciamo in evoluzione nel senso ci sono state tante dinamiche intorno a quella struttura per cui ci sono state situazioni e situazioni positive e negative quindi sarebbe interessante coinvolgere chi viene all'evento con le persone che sono all'interno dell'evento in una possibile incontro non prontamente soltanto frontale ma che coinvolga magari con non parlo di tavoli di lavoro rischiamo magari di creare una situazione più grande di quella che è ma magari un modo dei documenti dei dibatti degli incontri che possano fare in modo di fare entrare informazioni anche all'interno del municipio da quegli incontri piuttosto che far uscire solo informazioni sul tema dei beni comuni e imprettamente sul ragionamento della rigenerazione urbana inteso al rapporto 2 quindi cos'è la rigenerazione urbana cos'è di positivo a livello più che rigenerazione dei spazi comuni perché poi rigenerazione potremmo discutere ora sul tema rigenerazione però diciamo sul tema dei spazi comuni il valore di ripristinare e di ripristinare e dare nuova vita ai spazi comuni e quindi la parte esterna che va a spiegare ma anche la parte interna che va verso dentro e quindi parla dell'esigenza che si va costituendo in una realtà come quella per esempio di Orgo Cannella che magari a differenza della vaccheria faccio esempi estremi per farmi capire lì è un ambiente l'ambiente della vaccheria è un ambiente in più che si è stato riaperto in una zona da raggiungere dove si è creata una situazione completa mentre invece l'Argo Cannella è una situazione centrale all'interno di un ambiente cittadino centrale che vive una serie di aspetti che non sono completi ma hanno una serie di situazioni intorno quindi potrebbe essere interessante applicarlo in questo modo quindi magari modificare un pochino andare a modificare il tipo di incontro e ragionare in termini più più inclusivi quando parlo di inclusività se vogliamo parlare dice sì ma qual è il senso pratico di questo ragionamento non sono incontri frontali quindi magari anche il modo di costituire le sedute il recupero delle informazioni la scrittura di testi e documenti che poi vengono magari portati ed esaminati qui nella nostra commissione e così via costituiscono la parte più inclusiva mentre invece c'è la separazione separazione diatrale un po' come se ci fosse un palcoscenico chi sta da una parte l'altro ascolta e basta quindi ecco magari potrebbe essere interessante applicarlo in questi termini in particolare questo discorso perché siamo anche a largo cannella poi se vogliamo trasformarli ulteriormente gli incontri e se ci sono idee anche in maniera un po' più come di particolare comunque se ci vengono in mente altri modi anche per affrontare per trasmettere informazioni e recuperarne pensiamoci anche a questo che io ho parlato sempre parliamo sempre di incontri frontali perché siamo anche a parte non ce lo nascondiamo qua facciamo tutti politica lo sappiamo sono più facili da fare se ricostruisci con relativa semplicità ma sono anche però quelli sono anche però quelli che hanno questa comunicazione che è abbastanza forse anche desueta per certi aspetti però è facile da costruire e la comunicazione è diretta quindi ecco magari su quest'altro tipo di incontro parlando di rigenerazione urbana e spazi comuni in un contesto come quello potrebbe essere interessante ragionarlo così anche per noi proprio per noi come commissione potrebbe essere un modo anche per acquisire opinioni informazioni accresce anche il nostro modo di approcciarsi io ve lo segno se poi ci sono obiezioni mandate mandate la post no scherzo allora incontro due bene questo è un discorso ci sono sogni pensieri e desideri che volete esporre qui in commissione adesso riguardo questo appena detto o comunque il resto degli incontri se ci sono altri pensieri bene allora poi come dicevo a livello di ambienti immaginando prego consigliere Cucunato prego no era soltanto per io le ho scritto presidente non so se lei stava per passare a un altro tema non so se no no io le ho scritto non so se ha avuto modo di leggere che purtroppo se si può modificare non so se adesso è il momento di dirlo oppure magari lo facciamo tra le varie eventuali la convocazione alle 14 mi crea non pochi problemi perché tra l'altro non è nemmeno l'orario nostro le 14 l'orario nostro è dalle 14 e 30 in poi perché io ho la pausa pranzo e quindi tra l'altro non sono nemmeno coperto in quell'orario perché per legge la pausa pranzo è un diritto obbligato da parte del datore di lavoro e quindi se si poteva spostare la commissione alle 14 e 30 come è sempre stato come è sempre avvenuto allora ne riparliamo assolutamente nelle varie eventuali e anche perché il ne riparliamo sicuramente nelle varie eventuali perché abbiamo letto appunto il l'ultimo verbale dove parlavamo dello spostamento di erario le avevo risposto non so se l'email l'ha vista perfetto e adesso nelle varie eventuali magari affrontiamo il discorso più nel dettaglio e completiamo anche la possibilità di spostamento di orario perché anche perché in realtà l'orario che è stato concluso per noi è alle 14 e non alle 14 e 30 anche in quel caso bisogna avvertire il presidente del consiglio però adesso poi ne parliamo più nel dettaglio anzi se non ci sono altri pensieri io mi fermerei qua con il secondo punto dell'ordine del giorno e vi proporrei di aggiornarci alla prossima seduta con io lavoro un po' su quello che ci siamo detti lavoriamo nel senso se avete idee sogni pensieri cose che riguardano quello che ci siamo detti fino adesso magari ci presentiamo al prossimo tema con qualcosa di un po' più strutturato io ci lavorerò queste settimane e uso il plurale settimane può essere anche la prossima settimana adesso vediamo un attimo a livello di impellenza cosa convocare come, quando, dove, perché riassumo quello che ci siamo detti in conclusione oggi il consigliere che aveva fatto la proposta di Lapsus e Simone Bonelli e delle associazioni come in realtà che possono arrivare anche da ambienti che hanno già vissuto già vissuto a termine sbagliato insomma che hanno potuto constatare i benefici del lavoro sul tema dei beni comuni e sui beni comuni come ambienti anche Bologna se ho capito bene e sono stato d'accordo anche perché comunque è una realtà cittadina molto virtuosa anche da quel punto di vista personalmente ho avuto modo anche di scoprirlo personalmente oltre che di dati e informazioni confermando quindi il primo incontro in questi termini considerando la presenza anche delle istituzioni che non riguardano solo istituzioni municipali ma anche comunali presupponendo un ragionamento che andrà fatto come diceva anche bene l'assessore riguardo i fondi che sono disponibili con l'assessore Catarci all'interno di questo di questo contesto quindi il primo incontro si andrebbe a delineare e questo adesso mi adopererò per cercare di capire bene tutte le disponibilità e tutto quanto nell'ultima settimana di gennaio 2025 nella sala consigliare in aggiunta a questo abbiamo ragionato ci abbiamo ragionato insomma vediamo per l'incontro il secondo incontro invece i nomi e tutto quanto prenderò anche in esame il prenderemo in esame insomma anche l'intervento della consulta magari più nel dettaglio su anche le possibilità associative in realtà che possono intervenire sul tema e mi adopero per cercare di capire il discorso per quanto riguarda i spazi largo cannella e vediamo un attimo come poterlo fare in quel tipo di ambiente in quell'ambiente e sempre immaginandolo nella seconda settimana di febbraio quindi diciamo con febbraio già inoltrato abbiamo ragionato anche sulla possibilità di includere anche il discorso di realtà esterne inteso esterno dal raccordo quindi la parte più diciamo periferica diciamo tema periferica qui dovremmo fare un ragionamento filosofico sul discorso però ecco diciamo verso esterno e il discorso dei centri anziani potrebbe essere un ottimo modus operandi anche per arrivare a Dama senza andare a fare delle determinate spese che potrebbero esserci utili nel periodo nel momento del festival cos'altro ah e la possibilità di coinvolgere in particolare il casale di via Tullio e Viola che secondo me è una realtà che vale la pena anche poter sfruttare per questo tipo di discorsi soprattutto per il valore che assume all'interno della parte cittadina insomma potremmo fare vari discorsi sul casale in senso positivo e quindi potrebbe essere un ottimo esempio virtuoso da prendere in esame e questo diciamo mi sembra il riassunto più completo anche per me guardando gli appunti se mi sono perso qualcosa ovviamente qualcuno dica qualcosa vedo la mano alzata del consigliere Cucunato quindi le do parola prego sì grazie era soltanto per rifarmi anche alla commissione di oggi fatta con i vertici di Euro S.P.A. che praticamente con cui il municipio ha una serie di attività diciamo in sinergia tra l'altro anche con spazi comuni e giornate di riferimento comuni da utilizzare in questi spazi comuni io proporrei se fosse possibile di fare un elenco di tutte quelle che sono gli spazi comuni in cui il municipio o per una sorta di convenzione o per una sorta di collaborazione o per sinergie istituzionali ha la possibilità di utilizzare alcuni spazi diciamo tra l'altro diciamo presenti nei patti nelle convenzioni e quant'altro faccio un esempio adesso banale lo so che il tema dello Stardust è un tema che praticamente ha una serie di altre problematiche ma anche lo Stardust è un tema di utilizzo con la vecchia convenzione in essere che abbiamo sfruttato poco e non lo dico solo io lo dicono anche diciamo molti componenti e consiglieri diciamo che fanno parte di questa commissione oppure faccio altri esempi alcuni centri sportivi municipali che sono in capo a qualche federazione abbiamo la possibilità di utilizzare questi spazi non solo sportivi ma anche sociali ma quindi che sono spazi comuni diciamo in cui il municipio rientra a pieno titolo e che possono svolgere una funzione sociale non indifferente dove praticamente sono sottoutilizzati o molte volte dimenticati nell'utilizzo da parte del municipio stesso se volete faccio un po' qualche esempio alle tre fontane le potrei fare praticamente il campo dell'hoquei ma diciamo ci sono una serie di altre lei ha citato alcune strutture che il municipio gestisce in modo diretto o indiretto dove praticamente il municipio ha la possibilità di utilizzarli come spazi comuni non solo per iniziative sportive sociali culturali e quant'altro sarebbe opportuno fare questo tipo di lavoro un po' per rendere la questione evidente a tutti un po' perché magari ci sono diverse entità che nemmeno lo sanno che è possibile richiedere tra virgolette questi spazi e ritengo che possa essere una cosa abbastanza importante pure per noi grazie consigliere comunale chiarissimo chiarissimo non si intanto voglio andare oltre perché se no poi entriamo in un'argomentazione che crea forse più che un'attività diciamo positiva o qualche polemica lungi da me da fare polemiche però no guardi consigliere sono sono stato d'accordo intanto parlando di EURSPA potrebbe essere un ottimo interlocutore per l'ultimo incontro che sarebbe i beni comuni come monumenti e riguardava specificatamente anche l'EUR anche perché poi nell'incontro che avevamo fatto anche consigliere che parlava di altre realtà storiche che costituiscono il nostro territorio che non sono solo l'EUR però potrebbe essere un ottimo interlocutore sia per il discorso degli spazi comuni e quindi per sfruttarli sia come interlocutore sul tema per quanto riguarda i centri sportivi sono estremamente d'accordo bisognerebbe magari fare una cernita o cercare di capire quali e quanti sono e quali potremmo andare a sfruttare anche per questo tipo di attività se c'è la possibilità di raggiungerci io facevo riferimento soltanto a quelli in cui già esiste una convenzione che dà la possibilità al municipio di utilizzare questi spazi cioè perché magari me ne sfugono altri che nemmeno conosco però se non li conoscete voi della maggioranza la cosa è abbastanza se non li conosco io va bene ma se non li conosce nemmeno la maggioranza la cosa è abbastanza grave no no in carità riconosciamo era per dire di quale tipo di ragionamento se parliamo di quelli che c'erano già una convenzione col municipio possiamo sfruttare quel tipo di ambienti lì assolutamente e ragionare anche su come inserirli all'interno dei nostri panel anche perché spazi comuni riguardano anche questo assolutamente soprattutto anche per il tema dello sport come elegante sociale quindi sì d'accordissimo e preso appunto adesso qua sarà parte del lavoro che svolgerò queste settimane un attimo per capire come poterci come poterci ragionare intorno ci sono altri altri pensieri o altri dibatti che riguardano questo lavoro qui che poi nelle varie eventuali andremo a affrontare gli altri discorsi bene allora io direi concluso il secondo punto all'ordine del giorno ringrazierei la presenza dell'assessore la dottoressa Antonini prenderei una pausa di 5 minuti per poi affrontare i vari eventuali se va bene a tutti quanti un silenzio assenso che apprezzo arrivederci vi saluto perfetto grazie arrivederci quindi io posso anche lasciare adesso sì se vuoi rimanere per carità adesso parleremo di cose che non riguardano prettamente il festival però come preferisci mi ringrazio e vi saluto a lei buona giornata allora io direi di fare 5 minuti di pausa e poi riprendiamo 5-10 minuti di pausa e poi riprendiamo le varie eventuali che abbiamo alcune cose su cui aggiornarci interrompo la registrazione perfetto ok vale allora signore sono le 15 e 41 la seduta riprende perfetto allora passiamo quindi alle varie eventuali anzi c'è posta no visto che non c'era posta passiamo alle varie eventuali allora intanto vi aggiorno che il discorso che avevo iniziato a fare con la Presidente della Commissione prima per quanto riguarda innovazione e disabilità per ora si è un attimo fermato perché c'erammo capiti male sostanzialmente c'era Patrizia Presidente De Vivo che aveva visto determinate possibilità per fare una commissione poi è andata ad analizzare meglio e non c'erano queste possibilità perché l'argomento non trattava specificatamente anche il tema della disabilità insomma è stato un misunderstanding però è un tema il discorso disabilità innovazione che rimane e vi aggiornerò perché comunque stavamo ragionando sempre di applicarci in una nuova commissione trattando la tematica per quanto riguarda il discorso dell'orario allora sì consiglio ricomunato allora intanto mi dispiace perché che sia stata messa in questo modo la convocazione cercherò di non riconvocare per quest'ora allora ad ora ad ora noi abbiamo come fascia oraria cioè l'orario nostro è alle esattamente alle 14 che è un problema ma è alle 14 e nemmeno alle 14 e 30 quindi se non sbaglio avevamo ragionato sul discorso di spostare l'orario in maniera ufficiale per poi riapplicarla alle 14 o 14 e 30 solo in caso di necessità della commissione avevo visto che eravamo quasi tutti d'accordo a parte il consigliere cerisola che si sarebbe trovato più comodo rimanere per le 14 se non sbaglio nel caso di mio mi può contraddire e quindi di ragione di spostarci tra le 14 e 30 e le 15 in quel range lì adesso vediamo anche nello specifico l'orario vedo la mano alzata del consigliere cerisola prego sì sì grazie presidente lei ha detto benissimo ovviamente ognuno ha diritto di esprimere le proprie necessità le proprie preferenze le proprie esigenze eccetera lei ha detto benissimo che io preferisco come orario dell'area 14 e lo confermo ora detto questo è chiaro che si cerca di venirsi incontro però come lei ha anche detto prima alla fine poi al calendario delle sedute viene fissato dalla capigruppo e gentilmente in una delle sedute passate una verbalizzante riportò sedermente quanto è stato deciso il capigruppo poi si vuole cambiare in capigruppo si cambia io preferisco tenerlo così è giusto dire anche qual è l'orario che ufficialmente è stato avvisato dal capigruppo come è stato già precisato e poi ripeto se al fine io sono in minoranza me ne farò una ragione per carità quindi si riporta in capigruppo e si decide una modifica di orario lei la vedo sempre molto gentile e disponibile a parlarne per carità comunque sia non è che una cosa quando è decisa non si può più discuterne quindi lei è estremamente disponibile a riaprire discorsi per carità assolutamente si può fare però ripeto va tenuto presente quanto deciso nel capogruppo e appunto se si chiedono le esigenze delle persone io ovviamente dico la mia io preferisco confermare le 14 poi tra le 14 e le 15 ovviamente preferisco le 14 e le 30 questo tanto per dire la mia poi ognuno giustamente dice la propria grazie presidente grazie a lei consigliere si no e proprio per tenerci al discorso della capigruppo perché lo portavo come tema perché potrebbe essere interessante visto che appunto nell'ultimo anche verbale che abbiamo letto diciamo in maggioranza ci si trovava scomodi ad arrivare ad avviarci alle commissioni alle 14 e immaginare quindi di fare uno spostamento che secondo me 14 e 30 potrebbe essere anche un modo per non sfalsare troppo però già dare una possibilità di mezz'ora in più per quanto riguarda l'orario poi ovviamente nel caso in cui avessimo bisogno di fare commissioni più lunghe perché poi il tema era anche lì e quindi c'era bisogno di più tempo possiamo sempre chiedere la possibilità di anticipare alle 14 e se abbiamo la possibilità perché magari c'è qualche consigliere che quella settimana ha bisogno di essere convocato più tardi possiamo fare alle 15 diciamo la mia disponibilità oltre che forse per un tardanimo questo sarà il prossimo a deciderlo non io più un discorso pratico che fa piacere se ci sono tutti quanti consiglieri e che non c'è un problema d'orario poi se uno può sentarsi arrivare dopo non è quello il punto però se è un discorso di orario è più importante magari cercare di fare in modo che ci siano tutti quanti comunque ne parlerò anche con il presidente del consiglio e così capisco un attimo anche il percorso da fare per poterlo spostare in vista di quello che c'eravamo detti che è anche verbalizzato sul fatto che appunto in maggioranza ci troveremo più comodi a spostarlo anche 14 e 30 visto che il consigliere Cerisola diceva preferisci le 14 ma nel caso 14 e 30 è sempre meglio delle 15 a questo punto potrebbe essere un modo per cercare di agevolare anche il discorso che poneva anche il consigliere Cucunato sul tema della pausa Pranzo così da poter più o meno applicare tutte le esigenze magari ci aggiorniamo a breve stretto giro che ne parlerò poi con il presidente Capigrupp e poi sarà la Capigrupp a quel punto a prendersi oneri di questo di questa scelta nostra insomma orario lo segno perché come al solito sono bravo con la memoria ma su queste cose me le perdo e bene se io non ho altri altri aggiornamenti specifici riguardo questo momento di varie eventuali come ci siamo detti anche le altre volte se ci sono tematiche che vogliamo affrontare in futuro magari consideriamo le varie eventuali come spazio di programmazione io non ho nient'altro da aggiungere se nessun altro ha nient'altro da aggiungere noi possiamo chiudere la commissione e ritrovarci al prossimo giovedì benissimo allora Manuela possiamo chiudere la commissione 1550 ok interrompo la registrazione